Allora, un momento soltanto perché... Una corretta inchiesta. No, io però devo... Indagini pilotate con i dossier. Però quello è... Date l'interpretazione odentica. No, vabbè, c'è Bianconi per l'interpretazione odentica del titolo del Corriere. Se parla Bianconi... Ma lascia prendere la gestione. No, non lascia fare. Mettici la croce sulla giustizia e stiamo a posto. Scusate, approfittiamo... C'è un'indagine pilotata con i dossier. No, poi volevo segnalare anche un'altra cosa. Sì, io però volevo dare un'idea... No, chiudo. Le toghe rosse al momento non governano sicuramente le più grandi procure d'Italia. Roma, MI, Firenze, MI, Milano, MI. Siamo ancora a questo. No, no, giusto per, diciamo... Ma guarda che questo è il tema sulle... Basta aprire il sito di magistratura democratica e sleggere quello che scrivono con chettoni sull'allarme della tenuta democratica sul fascismo. No, la nostra redazione ha sequestrato un articolo rintracciabile online. Rintracciabile online. Ma guarda, su questo posso darti le ciclopedie sulle porcherie fatte negli anni passati. Allora, Giovanni Bianconi per l'interpretazione autentica del titolo. Che vuol dire? Che quello è la sintesi dell'accusa fatta da Perugia che riguarda un finanziere e un magistrato della procura... Ma non l'avete manco messo tra virgolette. Tanto come dire non è dell'accusa che manco le virgolette... Che riguarda, sta dicendo, però un'altra sta dicendo che riguarda un finanziere e un magistrato. Con ottico che fanno, indagini pilotati che hanno... Ma non dalle procure. Hai detto codici, indagini pilotate, quando si è da due... Due o duecento, poco cambia. Un momento. Non è così. Se duecento è come dire un colpo di Stato, se due è un problema. C'è del maldato. Ma due hanno un nome e un cognome. È chiaro. Ma non un pretore di Catanzaro. Parliamo di un sostituto curatore della procura nazionale antimafia. Non un passante qualsiasi o un uditore. E signori miei, non è che adesso dobbiamo sminuire la portata di quello che state raccontando. Io allora, approfitto... Bianconi, Giovanni, scusami. Sì, scusami. Però volevo, diciamo, riprendere un po', visto che si è accesa la polemica e anche nel nostro studio, per dare un'idea...